Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Aspasso per il Multiverso Marvel. Io sono Jitaru e oggi parleremo delle prime entità sbucate tra il sesto e il settimo cosmo, ma soprattutto delle loro mansioni multiversali. Le entità che vorrei presentarvi fin da subito sono quelle nate prima e durante la nascita delle prime personificazioni del primo cosmo, ma soprattutto quelle più importanti per la salvaguardia e distruzione del multiverso stesso. Le sentità che si suddividono in due trinità sono Oblivion, Morte e Inverno Nero che si occupano della parte negativa dell'Omniverso e Eternità, Infinito e Forza della Fenice che si occupano letteralmente della vita e prosperità di ogni creazione. Anche se, anche se, anche se è da dire che la Fenice nella storia editoriale Marvel non sempre ha portato bene. Ma andiamo con ordine. Prima della creazione dei vari cosmi, al posto di quest'ultimi era presente solo il vuoto primordiale, conosciuto grazie alla mitologia norena Marvel come Genome Gagab. Prima di continuare ci tengo a precisare che la mitologia norena Marvel è molto diversa dalla mitologia norena classica. Quindi, nelle mie parole, troverete differenze tra queste due mitologie. Tornando al vuoto, o Yarnik Void, quest'ultimo è il punto di partenza per il fuoco e il Giaccio Primordiale, che diede vita a Ymir e a Buri. Questi due esseri, che si pensa siano imparentati, sono il primo gigante di ghiaccio e il primo Eysir, e che, soprattutto, da loro derivi tutta la vita e la morte presente nei dieci regni situati nell'albero del mondo, conosciuto come Yggdrasil. Ma questa, come sempre, è un'altra storia. Tornando nuovamente al Void, questa cupola di nulla primordiale è sempre stata governata dall'ublio, o Oblivion, che rappresenta la non-essenza e l'esatto opposto dell'espansione dell'universo, ma soprattutto della vita. Come ricorderemo dalla scorsa puntata, il primo firmamento decise di creare vita al suo interno, ma che per colpa delle sue stesse creazioni ogni cosa doveva in qualche modo finire, nascendo, evolvendosi e morendo a tempo debito, facendo finire il tutto come tutto era iniziato, nel nulla. Questo compito venne affidato a una personificazione dell'ublio stesso, chiamata da tutti come la morte. Questa nuova esistenza, che ancora oggi porta alla distruzione e ogni forma di vita, è l'entità più vicina al Void, e si occupa letteralmente di bilanciare la vita, e appunto la morte, in tutto il multiverso. Altre personificazioni dell'ublio sono Null, il dio creatore dei simbionti come Venom, e il re o dio del caos, un essere oscuro conosciuto in Giappone come Amatsumi Kaboshi. Ma nel dettaglio ci ritorneremo prossimamente. Per finire la trinità del decadimento multiversale, troviamo l'inverno nero, un'entità cosmica che si può riassumere in due semplici parole, male incurabile. Spiegando meglio quest'ultima frase, questo Winter Black è un vero e proprio parassita astrale, che si nutre letteralmente di universi. Conosciuto in ogni mitologia o storia astrale, questo essere è il solo responsabile della morte di ogni personificazione del primo firmamento, ed è raffigurato o descritto come l'oscurità prima della fine di tutto. Una sua parte o personificazione è uno dei primi esseri del settimo cosmo, Galan, conosciuto da tutti come Galactus, il divoratore di mondi. Questa incredibile e astrale entità è l'unione tra Galan, un umanoide del pianeta Tahan, il sesto cosmo che decise di fondere una piccola parte di se stesso con il futuro divoratore di mondi, e l'inverno nero che decise di risparmiarlo per rendere un suo araldo e farsi aiutare nel compimento del suo compito. Di Red, quale? Facile, cibarsi della vita. Un altro essere che svolge un compito simile e che viene scambiato spesso con il Winter Black è Anger, un parassita multiversale proveniente dal vortice cosmico, un luogo al di fuori dell'universo stesso che viene attirato dal potere astrale primordiale. Durante la sua prima apparizione nel 2003, Fame, un altro nome di quest'ultimo, tentò di cibarsi dalla Terra 616, quella classica per intenderci, perché attirato dall'incredibile potere sprigionato dalle sei geme dell'infinito, che furono riunite per la prima volta. Passando finalmente alla trinità della vita, ci troviamo di fronte a una delle entità astrali più potenti del multiverso, la forza della Fenice. Quest'entità, composta dal fuoco primordiale, è la rappresentazione della vita non ancora nata, ma anche della distruzione e della creazione. Facendo il punto della situazione, facendo la rima, la Fenice è una forza neutra, che in base al momento astrale può portare vita o morte. Personificazione molto famosa di quest'essere è il personaggio di Jean Grey, una dei membri fondatori dell'X-Men, ma anche una delle minacce peggiori per la Terra 616. Fenice, contrariamente dei suoi fratelli, con moltissime virgonette, non usa gli Hembody, una sorta di corpi plasmati di cosmo che servono per manifestarsi dinanzi agli esseri inferiori. Questi corpi, che possono variare a piacimento, sono stati creati perché queste grandissime entità che ho appena citato e che citerò sono fatti di energia stessa. E quindi, come potete dedurre, i comuni mortali o delle entità inferiori, senza questi corpi non potrebbero vederli. Detto ciò, queste creazioni sono nate nella dimensione della manifestazione, un posto raffigurato da gironi infiniti dove non è presente gravità, atmosfera e popolazione. Oh, quasi. Questa dimensione, composta solo da tonalità grigie e fredde, è popolata da esseri astratti, che comunicano solo grazie al loro capo o primo, conosciuto come antropomorfo il primo manifesto della manifestazione. Ma questa, come potete dedurre, è una storia di cui si sa veramente poco. Tornando alle personificazioni della Fenice, nella Terra Sion 6 era presente un altro essere umano posseduto dalla Fenice, la donna preistorica conosciuto come Firehire, e proveniente dalla tribù del fuoco. Questa donna era un membro fondatore dei primi Avengers preistorici, capitanati dal possente padre degli dei Odino. Questo che vi ho appena detto non è nulla per allungare il brodo, ma, e dico ma, è giusto per farvi sapere che la donna e il re di Asgard erano molto più che semplici compagni. A quanto pare, la prima personificazione umana della forza della Fenice è la madre del fulminio dio del tuono Thor, che oltre ad avere sangue divino, quest'ultimo possiede dentro di sé un potere cosmico incalcolabile. Chiudendo questa grande grandissima parentesi, arriviamo agli ultimi due membri della trinità della vita, Eternità e Infinito. Queste due entità, che se sentiamo i nomi possono sembrare lo stesso essere, in realtà si indistinguono in due forme separate. Eternità si occupa di mandare avanti la vita al suo interno, ed è l'incarnazione di ogni cosmo e personificazione del primo firmamento. Quest'entità, raffigurata come un essere umanoide con gli astri al suo interno, è letteralmente la coscienza collettiva della vita, e vive, o esiste, grazie al numero incalcolabile degli esseri presenti al suo interno. Spiegando meglio quest'ultima mia frase, più vita presente all'interno dell'omniverso e più potere possiede questa rappresentazione di tutto. Contrariamente da quel che si pensa, quest'entità è stata rappresentata più e più volte nella storia Marvel, avendo contatti, anche se brevi, con lo stregone supremo Dotto Strange, l'Antico, Miser Fantastic e Hank Pym, che dopo esser cresciuto oltre il macroverso di Overspace, si ritrovò di fronte all'eternità. Una cosa molto interessante di questo essere è che possiede una sorta di Eraldo, o Arandi, conosciuti come Captain Universe. Questi esseri, creati dal Dio della Luce conosciuto come Enigma Force, si occupano della salvaguardia dell'intero cosmo, risultando i guardiani dell'eternità, combattendo ogni forma di male presente nel multiverso e comportandosi come una sorta di corpo di polizia spaziale. Contrariamente da quel che si pensa, Captain Universe non è una persona, ma una manifestazione dell'universo stesso, che posseduto il suo campione, con molte virgolette, può scagliare tutti i suoi poteri astrali contro il male supremo. In genere, questa possessione non è eterna, anzi, ogni essere può diventare questo universo personificato, essendo tutti parte della vera scintilla di vita che ci ha dato e continuerà a darci quello che ogni istante sentiamo e viviamo. Di regola esiste un solo Captain Universe in ogni realtà, ma, e dico ma, è capitato che qualche terra possedesse più di un unipower. Ma questa, come sapete già, è un'altra storia. Tornando all'infinito, questa sottoposta di eternità è stata ben conosciuta nelle pagine del supereroe Quasar, perché è molto legato a essa. Per farvi capire questa frase, Quasar trae il suo potere dalla zona quantica. Direte, e cosa straceppa è la zona quantica? Questa zona, o dimensione, è il fulcro da dove proviene ogni tipo di energia dell'universo Marvel, e Infinity è la fonte di questa dimensione. Per rendere l'idea eternità, non può esistere senza infinito, perché essendo tutti composti di energia, il nostro centro è e sarà sempre l'energia quantica. Detto questo, queste entità astrali sono al di sopra di quasi tutto nel multiverso. Ma un pelatone viola molto famoso grazie al film MCU è riuscito a superare la potenza di queste due personificazioni del settimo cosmo. Durante la saga Il Guanto dell'Infinito, che vi consiglio, Thanos, riuscendo a unire tutte le sei gemme e incastonarle nel Guanto dell'Infinito, ha raggiunto una potenza davvero incalcolabile, sconfiggendo quasi tutte l'entità del settimo cosmo, imprigionandole e prendendo il posto di eternità. Questo causò un vero declino e smembramento del settimo firmamento, ma grazie alla sua deforme e poco adorata presunta nipotina Nebula, tutto tornò alla normalità. Oh, quasi. Naturalmente, se volete saperne di più, vi consiglio di recuperarvi questa storia. Ragazzi, finalmente la seconda puntata di Aspasso per il multiverso supereroistico termina qui. Spero di avervi intrattenuto, ma soprattutto spero vivamente di avervi presentato e illustrato al meglio la storia delle prime entità cosmiche della storia Marvel. Nella prossima puntata continueremo a smembrare ogni astro esistente nel multiverso, alla ricerca di ogni entità astrale. Detto ciò, grazie per l'ascolto e alla prossima!